8 kg di droga sequestrata e due persone arrestate. Questo è il bilancio di un'operazione della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Pescara che ha sottoposto ad un controllo all'uscita del casello autostradale di Città Sant'Angelo un'autovettura con a bordo due giovani italiani. Il nervosismo mostrato dai due ragazzi ha portato i militari ad un controllo più approfondito del mezzo che ha consentito il ritrovamento di un borsone contenente 50 panetti di hashish all'interno di buste termosaldate per un peso complessivo di oltre 5 kg. Le successive perquisizioni domiciliari presso le abitazioni dei due a Pescara e a Monte Silvano hanno portato ad un ulteriore sequestro di 40 panetti di sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso totale superiore ai 2,5 kg oltre ad una confezione sottovuoto contenente 130 grammi di marijuana. Unitamente allo stupefacente sono state trovate attrezzature per il confezionamento dello stesso e bilancini di precisione. I due giovani, poco più che ventenni, sono stati tratti in arresto e su disposizione dell'autorità giudiziaria locale trasferiti presso la casa circondariale di San Donato a Pescara. La droga, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato circa 80.000 euro. Il servizio svolto segue di poco altre due attività condotte nel mese scorso dal nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Pescara che hanno portato all'arresto di altri due cittadini italiani e al sequestro di hashish per circa un chilogrammo e mezzo.